Allo showroom Murrina Classica Veneziana, sconti del 40 e del 50%? Vieni presso il nostro punto vendita, in via Matteotti 4042 ad Avellino. Prima campanella in città, l'anno scolastico si apre ufficialmente oggi con gli alunni dell'Istituto Guido d'Orso di via Morelle e Silvati. Alle 8.05, la prima campanella del 2017-2018 che richiama i ragazzi del primo anno a occupare i propri banchi. Gli studenti del d'Orso varcano i cancelli quattro giorni prima rispetto alla data indicata dal Ministero del 14 di settembre. Due ore dopo, alle 10.05, entrano nell'Istituto il resto delle classi. Domani tocca al Mancini di via dei Concili, con orario ridotto fino a sabato. Mercoledì è il turno dei vari licei classici, il Colletta di via Scandone e il Virgilio Marone di via Toro Cappuccini. Giovedì tutti gli altri istituti che si sono allineati alla data del dicastero dell'istruzione. Nessun doppio turno, nonostante i waltzer delle scuole, garantito dal dirigente provinciale scolastico Rosagrano. Ad Avellino, dopo la scuola media Cocchia e il liceo artistico De Luca, entrambi in via Toro Cappuccini, evacuati in corso d'opera l'anno scorso, tornata in sede la prima trasferita definitivamente altrove l'altra. Quest'anno è stato disposto lo sgombero del plesso scoca di via Pescatori, che ospitava 23 classi della media perna Lighieri e 19 del liceo Imbriani. Le prime sono state spostate tra Leonardo da Vinci di via Trinità e l'ex elementare di Valle. Più complicata la situazione dei licei, 14 classi hanno trovato posto nei locali di via Zigarelli, mentre solo nelle prossime ore si conoscerà il destino delle altre 5, quelle a indirizzo musicale. Trasloco anche per 10 classi del Lipia, Matucci di via Italia, verso l'ex Giorgi di via Ferrante e il Disdorso.